ciao a tutti bentornati in questo nuovo tutorial vedremo insieme come ho realizzato questa maglietta top down ai ferri con sprone rotondo ho scelto un motivo traforato per lo sprone molto semplice da realizzare indicato anche per chi si sta avvicinando alla lavorazione in top down con la maglia ai ferri questo video tutorial è strutturato in due parti in questa prima parte del video vedremo passo passo come costruire uno sprone rotondo con un punto traforato tra qualche giorno sarà disponibile anche la seconda parte di questo video tutorial dove lavoreremo il corpo della maglia vi darò indicazioni su come fare delle diminuzioni o degli aumenti sospenderemo le maglie delle maniche e poi rilavoreremo il collo il giro manica e la fine del lavoro con un bordo ai cord vediamo subito che cosa utilizzato per realizzarlo e cominciamo lavoriamo con il cotone si tratta del cotone new basic cotton lavorerò con il bianco si tratta di un 100 per cento cotone ritorto gomitolini da 50 grammi con una resa di 125 metri per la tensione che vedete sul progetto ho avuto bisogno dei ferri da 4 mm chiaramente vi illustrerò il campione e sarete voi in base alla vostra mano ad ottenere la tensione giusta per questo lavoro per la costruzione dello sprone lavoriamo per una taglia small media o una taglia media large per quanto riguarda invece la ripresa del corpo del lavoro sia per la larghezza sia per la lunghezza questo andrà in base alla vostra taglia effettiva e al vostro gusto per la lunghezza io ho avuto bisogno per il corpo del lavoro lavorando su una taglia small di 250 grammi di filato una volta chiuso lo sprone e sarete voi a scegliere se lavorare per una small media o per una media large il resto del progetto sarà sviluppato appunto sulla vostra taglia vi consiglio quindi per una taglia small media l'acquisto di 300 grammi di filato per una taglia media large l'acquisto di 350 grammi di filato vediamo i ferri che ho utilizzato lo schema e poi mettiamoci al lavoro lavoriamo un top down con sprone rotondo quindi sono necessari i ferri circolari preferibilmente intercambiabili io ho avuto bisogno dei ferri da 4 mm quindi le punte da 4 mm un cavo per l'avvio del lavoro di 60 centimetri comprese le punte quindi trovate cavo da 40 e punte da 4 sul quale ho avviato lo sprone quindi lo scollo man mano che lavoravo in in altezza ho sostituito il cavo da 60 con un cavo da 80 in modo da poter contenere nel modo migliore tutte le mie maglie le punte sono sempre state utilizzate da 4 mm e la tensione che ho ottenuto sul mio lavoro che è questa questo è il piccolissimo campione che ho realizzato è di 18 maglie in 10 centimetri di larghezza e uno sviluppo in altezza di 26 ferri per 10 cm quindi la tensione del lavoro è 18 maglie in 10 centimetri 24 ferri in 10 centimetri di altezza per lavorare le maniche utilizzeremo le punte corte sempre da 4 mm con i cavi per circonferenze piccole sono dei cavetti da 23 centimetri che uniti alle punte raggiungono circa 31 centimetri di circonferenza li utilizzeremo per riprendere i bordi delle maniche lavorare il bordo i cord e un uncinetto per recuperare le maglie del collo quando andremo a rifinire tutte le maglie di avvio qualche marca punto vi consiglio diversi marker se volete dividere i multiplo quindi che lavoreremo sullo sprone anche se non è necessario ma per una questione di comodità se non vi volete sbagliare potete andare a dividere ogni multiplo adesso vediamo lo schema sul quale ho lavorato lo sprone e poi cominciamo con il lavoro ed eccolo qua lo schema che ho scelto di utilizzare per la costruzione dello sprone è uno schema davvero semplicissimo si lavorano sempre gli stessi punti è sufficiente conoscere la maglia dritta perché non lavoreremo mai la maglia rovescia in tutto il progetto perché si lavora in tondo e lavoreremo sempre solo maglia dritta maglia gettata e accavallata l'accavallato che cos'è sono semplicemente due maglie passate a diritto una maglia lavorata a diritto le maglie passate accavallate alla maglia lavorata questo schema lo trovate in descrizione nelle informazioni sotto al video ve lo lascerò in modo che possiate o stamparlo o scaricarlo sul vostro dispositivo e tenerlo con voi durante la lavorazione dello sprone vi ripeto che è semplicissimo da realizzare lo lavoreremo insieme per tutti i ferri lavoreremo esattamente 26 ferri per una taglia small media e termineremo su ogni nostro multiplo con una serie di aumenti mentre per una taglia media large dovrete lavorare uno che un ferro in più con aumento sono due aumenti semplicissimi che vi mostrerò come realizzarli vi lascio nelle informazioni proprio questo disegno al quale saranno seguite sempre durante la lavorazione tre maglie a diritto quindi si lavora su un multiplo di tre maglie come questo schema più tre dritti sempre quindi un multiplo di sei le tre maglie a diritto sono queste che resteranno a divisione del nostro punto traforato quindi multiplo di sei maglie per l'avvio che poi gradatamente andranno andranno ad aumentare appunto per costruire lo sprone rotondo la tensione che io ho dato al mio lavoro è di 18 maglie in larghezza per 10 centimetri e 26 ferri in altezza che corrispondono per me a 10 centimetri e ho lavorato con i ferri da 4 millimetri quindi questa è la tensione che dovete ottenere potete sostituire il numero del ferro in base alla vostra mano lavorando con un 3,5 o con un 4,5 ma se volete seguire tutte le mie indicazioni dovete ottenere questa tensione 18 maglie 10 centimetri in larghezza 26 ferri 10 centimetri in altezza detto questo cominciamo ad avviare con i nostri ferri circolari e il cavo da 40 quindi 60 centimetri totali 108 maglie sui ferri con un avvio semplice quello che vi torna più comodo e consono e subito dopo chiuderemo a circonferenza e struttureremo insieme il nostro lavoro avviate le maglie sui ferri quindi vi ricordo 108 maglie multiplo di sei chiudiamo a circonferenza ci sono vari modi quello che preferisco è sfilare la maglia del ferro destro quindi la prima maglia avviata sui ferri e incrociarla sul dietro del lavoro con l'ultima maglia avviata quindi sposto la maglia ultima del ferro sinistro a destra e la prima maglia avviata che ho sul ferro di destra la passo a sinistra stringo bene da sotto i filati e quindi la coda il filo del gomito lo posiziono un marca punti in questo modo ho chiuso il mio lavoro incrociando le maglie primo ferro lo lavoriamo a rovesso quindi portiamo il filo verso di noi lavoriamo con il gomitolo chiaramente e lavoriamo tutto un primo ferro a rovesso terminato il ferro a rovesso lavoriamo due ferri a diritto quindi due ferri a maglia rasata ci vediamo sul ferro successivo terminati due ferri successivi a diritto andiamo a lavorare un ferro a dritto dove realizzeremo 6 maglie in aumento su tutto il ferro lavoriamo 18 maglie lavorate le prime 18 maglie realizziamo un aumento intercalare quindi nella maglia che abbiamo appena lavorato che è questa qua abbiamo l'asola della maglia lavorata sotto abbiamo l'asola della maglia del ferro precedente la recuperiamo la posizioniamo a diritto classico sul ferro in questo modo e la lavoriamo a diritto ritorto quindi nella parete posteriore abbiamo realizzato il primo aumento di nuovo lavoriamo 18 maglie a diritto e nuovamente ripetiamo un aumento intercalare quindi questa è la maglia che abbiamo appena lavorato nell'asolina del ferro precedente recuperiamo questa maglia la posizioniamo a dritto classico sul ferro e la lavoriamo a diritto ritorto ovvero nella parete posteriore ripetiamo 18 maglie a diritto e completiamo così il nostro il nostro ferro con aumento quindi ci vediamo alla fine del ferro alla fine del ferro dopo aver lavorato le ultime 18 maglie prima di chiudere il giro realizziamo l'ultimo aumento del ferro quindi riportiamo sull'asola della stessa maglia e la lavoriamo a diritto ritorto ora di nuovo ripetiamo due ferri a maglia rasata punto su punto abbiamo realizzato un aumento di 6 maglie su tutto il ferro siamo due ferri a maglia rasata e adesso sul ferro successivo andiamo a ripetere 6 maglie in aumento su tutto il ferro stavolta lavoriamo 19 maglia diritto e lavorata la diciannovesima maglia come abbiamo fatto nel ferro precedente di aumenti recuperiamo l'asola della maglia del ferro precedente la portiamo a dritto classico sul ferro sinistro e la lavoriamo a diritto ritorto e ora ripetiamo 19 maglie e una maglia in aumento fino alla fine del ferro terminato anche questo ferro con aumento l'ultimo aumento lo realizziamo dopo aver lavorato l'ultima maglia del ferro abbiamo 120 maglie totali ora cominciamo a lavorare il primo ferro del nostro schema uno schema semplicissimo lavoriamo in questo modo le prime tre maglie del ferro a diritto una maglia di gettato il gettato lo lavoriamo dall'interno verso l'esterno del ferro quindi un gettato le due maglie successive entriamo a dritto e le spostiamo senza lavorarle quindi le passiamo sul ferro destro senza lavorarle la maglia successiva la lavoriamo a diritto e le due maglie che abbiamo passato le accavalliamo alla maglia dritta appena lavorata quindi tre dritti un gettato un accavallato doppio un gettato e ripetiamo tre maglie diritto un gettato passiamo senza lavorarle a diritto quindi le sfiliamo così due maglie la maglia successiva la lavoriamo a diritto le due maglie passate le accavalliamo alla maglia appena lavorata terminiamo con una maglia di gettato questa è la lavorazione del primo ferro semplicissimo tre dritti un gettato due maglie passate a dritto un diritto le due maglie passate le accavalliamo alla maglia lavorata e terminiamo con un gettato continuiamo così fino alla fine del ferro terminato il primo ferro andiamo a rilavorare tutte le maglie a diritto il diritto con il dritto il gettato a diritto le maglie insieme a diritto i gettati a diritto e rilavoriamo tutte le nostre maglie semplicemente a dritto ci vediamo alla fine del ferro terminato il secondo ferro che è un ferro di ritorno continuiamo con il terzo ferro 3 maglia dritto un gettato 3 dritti 1 2 e 3 e un gettato continuiamo così fino alla fine del ferro 3 maglia dritto un gettato 3 dritti e un gettato continuiamo così fino alla fine del ferro 3 maglia dritto un gettato 3 dritti e un gettato e un gettato completato il terzo ferro terminiamo con il gettato rilavoriamo tutte le maglie a diritto e le maglie di gettato e le maglie di gettato a diritto quindi passiamo nuovamente lavoriamo nuovamente il ferro di ritorno lavorando a circonferenza tutte le maglie sul ferro di ritorno si lavorano a diritto anziché chiaramente al rovescio terminato il ferro lavoriamo il quinto ferro è un ferro a dritto dove di nuovo lavoriamo il nostro multiplo 3 maglie a diritto un diritto un gettato due maglie passate a diritto senza lavorarle una maglia a diritto e le maglie passate le accavalliamo alla maglia lavorata come abbiamo fatto praticamente nel primo ferro quindi 3 maglia dritto un diritto un gettato un accavallato doppio un gettato e un diritto questo è da ripetere fino alla fine del ferro quindi 3 maglia dritto un diritto un gettato un gettato un accavallato doppio siamo due maglie a diritto un diritto accavalliamo le maglie passate un gettato e un diritto fino alla fine del ferro completato il quinto ferro lavoriamo il sesto ferro che è un ferro di ritorno dove tutte le maglie le rilavoriamo a diritto e lavoriamo a diritto anche il sesto il settimo ferro che comunque un ferro dispari ma non lavoriamo nessun tipo di motivo quindi lavoriamo sesto settimo e ottavo ferro 3 ferri dopo questo qui che è il quinto a diritto lavorando semplicemente le maglie a diritto noi ci vediamo per lavorare il nono ferro dove invece andremo a ripetere il nostro motivo quindi 3 ferri a diritto e terminati anche questi 3 ferri a dritto lavoriamo il nono ferro lavoriamo 3 maglie a diritto un gettato un diritto un accavallato doppio quindi passiamo due maglie a dritto senza lavorarle lavoriamo la successiva diritto e accavalliamo le maglie sfilate un diritto e un gettato ripetiamo 3 dritti 1 2 3 un gettato un diritto un accavallato doppio un dritto e un gettato se avete inserito e marca punto sulle prime 6 maglie dei nostri multipl dove abbiamo lavorato il primo ferro come vi avevo consigliato a inizio tutorial adesso vedrete che nei vostri multiplo avrete 1 2 3 4 5 6 7 e 8 maglie anziché 6 quindi graduatamente stiamo facendo gli aumenti se avete marca punto controllate di avere fra ogni marca punto lo stesso numero di maglie fino alla fine del ferro in modo da non dimenticare le maglie di gettato quindi continuiamo il nono ferro lavoriamo 3 dritti un gettato un diritto un accavallato doppio un diritto e un gettato fino alla fine del ferro quando completiamo questo ferro lavoriamo anche il decimo che è un ferro di ritorno dove rilavoriamo tutte le maglie semplicemente a dritto ci vediamo sull'undicesimo ferro completato anche il ferro di ritorno quindi il decimo lavoriamo l'undicesimo ferro 3 maglie a dritto un diritto un gettato un accavallato doppio un gettato e un diritto questo è il punto da ripetere fino alla fine del ferro quindi 3 maglie a dritto un diritto un gettato un accavallato doppio un gettato e un diritto come vedete il punto è sempre il solito quindi si ripete ma si ripete in modo diverso con delle maglie a dritto che alternano il motivo 3 ma lavoriamo l'undicesimo ferro in questo modo fra i nostri multiplo lavoriamo il dodicesimo ferro dove rilavoriamo tutte le maglie a dritto ci vediamo sul tredicesimo dove nuovamente ripeteremo un aumento completato il dodicesimo ferro che era un ferro di ritorno lavoriamo il tredicesimo con un aumento le prime tre maglie del ferro le lavoriamo a dritto un gettato cinque maglie a dritto 2 3 4 e 5 e un gettato e queste sono le nostre maglie del primo multiplo ora ripetiamo tre maglie a dritto una due tre un gettato cinque maglie a dritto e un gettato lavoriamo il tredicesimo ferro in questo modo fino alla fine del del giro lavoriamo il quattordicesimo con ferro di ritorno dove tutte le maglie si rilavorano a dritto ci vediamo sul quindicesimo ferro lavoriamo adesso il quindicesimo ferro lavoriamo le prime tre maglie a dritto una due tre le successive maglie le lavoriamo con un diritto un gettato un diritto un accavallato doppio quindi sfiliamo due maglie a dritto senza lavorarle un diritto lavorato e le maglie sfilate le portiamo in accavallata un diritto un gettato e un diritto e un diritto abbiamo lavorato le nostre maglie del multiplo ora ripetiamo rivediamolo insieme tre maglie a dritto una due tre un diritto un gettato un diritto un accavallato doppio quindi due maglie sfilate un diritto lavorato e le maglie sfilate le accavalliamo un diritto un diritto un accavallato doppio un diritto una due tre un diritto un gettato un diritto un accavallato doppio un diritto un gettato e un diritto lavoriamo in multiplo in questo modo alla fine del giro lavoriamo il ferro successivo che è il sedicesimo dove tutte le maglie le rilavoriamo a diritto ci vediamo per passare insieme il diciassettesimo ferro terminato il sedicesimo ferro il diciassettesimo ferro andiamo di nuovo a lavorare un nostro il nostro multiplo lavoriamo le prime tre maglie del ferro a diritto ora lavoriamo due maglie a diritto un gettato un accavallato doppio quindi sfidiamo due maglie a diritto lavoriamo un diritto e accavalliamo le maglie sfilate un gettato e due maglie a diritto questo è da ripetere fino alla fine del giro quindi tre maglie a diritto una due tre due maglie a diritto un gettato un accavallato doppio un gettato e due maglie a diritto lavoriamo il multiplo in questo modo ogni multiplo in questo modo fino alla fine del giro alla fine del giro il diciottesimo ferro rilavoriamo tutto il ferro a diritto ci vediamo sul diciannovesimo ferro terminato il diciottesimo ferro lavoriamo il diciannovesimo dove di nuovo ripetiamo un aumento lavoriamo tre maglie a diritto una due tre un gettato sette maglie a diritto 1 2 3 4 5 6 7 e terminiamo con un gettato questa è la lavorazione dei nostri multiplo quindi su questo ferro otteniamo in totale 9 10 11 12 maglie per ogni multiplo lavoriamo così fino alla fine del giro quindi tre maglie a diritto un gettato sette maglie a diritto 3 e terminiamo con una maglia di gettato terminato il diciannovesimo ferro il ventesimo un ferro di ritorno tutte le maglie le rilavoriamo a diritto ci vediamo per lavorare il ventunesimo ferro completato anche il ventesimo ferro abbiamo un totale di 240 maglie quindi abbiamo fatto un aumento ulteriore per ogni multiplo che cominciava sulla nostra sulle nostre maglie di avvio con sei maglie adesso abbiamo il doppio delle maglie quindi 12 maglie il ventunesimo ferro lo lavoriamo senza fare aumenti così fino al venticinquesimo il ventisesimo dal ventisettesimo poi ricominceranno gli aumenti ma io mi fermerò con 240 maglie vediamo come si lavora questo step lavoriamo tre maglie a diritto una due tre di nuovo un diritto un gettato scusate due maglie a diritto una due un accavallato doppio quindi sfidiamo due maglie a diritto senza lavorarle un diritto lavorato e le maglie sfilate le accavalliamo due maglie a diritto un gettato e un diritto le nostre maglie del multiplo si lavorano in questo modo fino alla fine del giro rivediamolo insieme tre maglie a diritto una due e tre e queste tre maglie sono le tre maglie che lavoriamo dall'inizio dei nostri ferri quindi queste tre maglie a diritto a divisione comunque le lavoriamo sempre a diritto tre maglie a diritto un diritto un gettato due maglie a diritto un accavallato doppio quindi passiamo due maglie a diritto la terza a diritto le maglie passate le accavalliamo due maglie a diritto un gettato e un diritto e continuiamo a lavorare i nostri multiplo così in questo modo fino alla fine del giro con tre maglie a diritto un diritto un gettato due dritti un accavallato doppio quindi due maglie passate a dritto un dritto lavorato e le maglie passate le accavalliamo due dritti un gettato e un diritto ferro successivo è un ferro di ritorno quindi un ferro pari il ventiduesimo rilavoriamo le maglie a diritto ci vediamo per lavorare insieme il ventitreesimo ferro completato il ventiduesimo ferro lavoriamo il ventitreesimo ferro dove di nuovo andiamo a ripetere un motivo traforato lavoriamo in questo modo i nostri multiplo tre maglie a diritto una due e tre due dritti uno e due un gettato un diritto un accavallato doppio quindi due maglie passate a dritto senza lavorarle lavoriamo un diritto le maglie passate le accavalliamo un diritto un gettato e due dritti questa è la lavorazione sul ventitreesimo ferro per ogni nostro multiplo rivediamo l'insieme tre maglie di maglia diritto una due e tre due diritti un gettato un diritto un accavallato doppio un diritto un gettato e due dritti continuiamo a lavorare il ferro in questo modo fino alla fine del giro lavoriamo il ferro successivo che è il ventiquattresimo ferro di ritorno dove tutte le maglie si rilavorano a diritto ci ritroviamo per lavorare insieme il ferro venticinquesimo quindi questo lo lavoriamo con tre maglie a diritto di nuovo due dritti li vediamo insieme un gettato un diritto un accavallato doppio quindi sfiliamo due maglie a diritto lavoriamo un diritto e accavalliamo le maglie sfilate un diritto un gettato e due dritti ci vediamo per lavorare insieme il venticinquesimo ferro terminata la lavorazione anche del ventiquattresimo ferro questo è il nostro sprone come si presenta al momento andiamo a lavorare gli ultimi due ferri del nostro motivo quindi del nostro multiplo lavorando il venticinquesimo e poi il venticesimo che sarà un ferro di ritorno venticinquesimo ferro lo lavoriamo in questo modo lavoriamo le prime tre maglie a diritto una due tre e proseguiamo con tre dritti uno due e tre un gettato un accavallato doppio un gettato e tre dritti uno due e tre questo è lo sviluppo del venticinquesimo ferro rivediamolo insieme tre diritti uno due e tre di nuovo tre dritti uno due tre un gettato un accavallato doppio un gettato e tre diritti continuiamo a lavorare le maglie dei nostri multiplo in questo modo noi abbiamo una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici maglie su ogni multiplo continuiamo a lavorare così fino alla fine del giro alla fine del giro lavoriamo il ventisesimo ferro dove tutte le maglie si rilavorano a diritto ci vediamo poi sul ventisettesimo dove vi indicherò se dovete fare altri aumenti come proseguire quindi continuiamo e ci vediamo terminato il ventisesimo ferro completato il ventisesimo ferro abbiamo un totale sempre di 240 maglie per una taglia small media gli aumenti termineranno su questo ferro sempre se la tensione del vostro lavoro è corrisponde alla attenzione del mio campione che vi ho dato inizio tutorial quindi 240 maglie sono una circonferenza di circa 134 centimetri che poi suddivideremo per la parte anteriore e posteriore avvieremo le maglie sotto la manica e lavoreremo poi verso il basso per una taglia media large invece dal ferro successivo farete un aumento in più ora noi abbiamo lavorato circa un terzo del nostro sprone con aumenti per una taglia small media per una taglia media large vi dirò quanti ferri continuare dopo aver eseguito l'ultimo aumento che vi mostrerò come farlo chiaramente ma non questo vale solo ed esclusivamente per una taglia media large quindi fino ad ottenere 280 maglie una circonferenza totale dello sprone prima di sospendere le maniche di 155 centimetri allora noi abbiamo lavorato circa 12,5 centimetri in altezza questi sono i dati della della lavorazione del dello sprone per una taglia small media infatti abbiamo lavorato 13 centimetri di altezza sprone su un totale di 34 ferri compresi ferri di avvio dove abbiamo realizzato tutti i nostri aumenti e abbiamo un totale di 240 maglie quindi circa 134 centimetri ora dobbiamo completare l'altezza del nostro sprone dobbiamo arrivare a lavorare 15 centimetri di altezza totale continueremo a lavorare fino al trentanovesimo ferro questo era il trentaquattresimo sempre a maglia rasata quindi dobbiamo lavorare ancora cinque ferri a maglia rasata prima di sospendere le maniche per arrivare all'altezza che ci occorre del nostro sprone per una taglia media large invece continuerete gli aumenti fino al ferro successivo che è il trentacinquesimo compreso poi il trentasesimo che sarà un ferro di ritorno andrete a totalizzare con gli aumenti come vi mostrerò 280 maglie per una circonferenza dello sprone finito di circa 155 centimetri e lavorando gli aumenti il vostro sprone misurerà con questi due ferri in più 14 centimetri di altezza totale dovrete arrivare a lavorare fino a 18 centimetri quindi completato il ferro di aumento che sarà il trentacinquesimo dal trentasesimo al quarantasesimo quindi 10 ferri in più lavorerete sempre tutte le vostre maglie a maglia rasata come faremo adesso noi per una taglia small media quindi continuerete a lavorare fino al quarantasesimo ferro a maglia rasata dopo il ferro che vi mostrerò con aumento per una small media ora continuate a lavorare fino al trentanovesimo ferro a maglia rasata ovvero siamo sul trentaquattresimo cinque ferri su tutte le maglie appunto rasato ora vi mostro solo come eseguire l'aumento per una taglia media large da questo ferro che io poi toglierò gli aumenti chiaramente perché non mi occorrono dovete lavorare le maglie in questo modo è l'ultimo ferro anche per poi di aumento le prime tre maglie del ferro a diritto quindi una due e tre un gettato e adesso due quattro sei otto nove maglie a diritto quindi tre maglie a diritto un gettato nove maglie a diritto io adesso lo dispo il gettato una due tre quattro cinque sei sette otto e nove e un gettato e poi poi ricominciate con tre dritti uno due tre un gettato nove dritti e un gettato in questo modo portate il numero delle vostre maglie su questo ferro che è il ventisettesimo ma in realtà dall'inizio è il trentacinquesimo ferro comunque misuriamolo da da schema da dove abbiamo iniziato il punto operato abbiamo stiamo lavorando il ventisettesimo ok su questo ferro porterete il totale delle vostre maglie a 200 280 maglie alla fine del ferro terminato questo ferro con aumento solo per una taglia media large per una circonferenza dello sprone di 155 centimetri continuerete poi a lavorare fino al quarantasesimo ferro però comunque altri dieci ferri solo a maglia rasata dopodiché sospenderete le maniche come vedremo nella prossima clip per una taglia small media invece adesso lavoriamo gli ultimi cinque ferri senza più fare aumenti senza lavorare il nostro punto operato ma semplicemente a diritto quindi a maglia rasata diritta per altri cinque ferri fino ad ottenere un'altezza dello sprone di 15 centimetri ci vediamo terminati i ferri sia per una small media sia per una media large e vedremo nella prossima clip come sospendere le maglie delle spalle quindi andremo a dividere le nostre maglie dello sprone e poi proseguiremo nel corpo del nostro del nostro lavoro prima di lasciarvi e proseguire nella prossima parte del video tutorial per andare a realizzare gli aumenti come vi ho consigliato per una taglia media large se lavorate le maglie di gettato ma non volete visibile il foro quindi il traforo anche qua nella parte bassa perché lavorando il gettato se lo rilavorate nel rovesso con un rovesso semplice resterà questo traforo se non volete il traforo ma volete una lavorazione completa ve lo dico adesso che ho terminato il progetto perché non ho non ci ho pensato durante la lavorazione scusatemi vi consiglio di lavorare la maglia di gettato nel ferro di ritorno a rovescio ritorto oppure potete tranquillamente lavorare tre maglie realizzare un aumento intercalato come abbiamo visto nella parte alta dello sprone quindi dopo la terza maglia recuperare l'asola del ferro precedente portarla sul ferro e lavorarla a diritto ritorto nove maglie e ripetere un aumento nello stesso modo di modo da in modo tale da non creare il punto traforato oppure se vi piace l'idea potete realizzare questi fori così come abbiamo fatto qua nella parte degli aumenti realizzarli anche nel ferro successivo alla chiusura del motivo e poi lavorare completamente le maglie a maglia rasata per i ferri successivi così come vi ho indicato ora detto questo noi ci vediamo nel prossimo video tutorial dove riprenderemo la lavorazione del corpo sospenderemo le maglie delle maniche e vedremo come realizzare le chiusure con questo bordino ai cord nel prossimo video la seconda parte di questo tutorial sarà pubblicata tra qualche giorno sempre sul mio canale youtube io ti consiglio di iscriverti e attivare la campanella per non perderti l'uscita del prossimo tutorial